Musica Buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati in diretta su TVL con una nuova puntata di Giovedì Sport Come sempre il giovedì su TVL dedicato allo sport e in particolar modo qua dedicato al calcio, dedicato alla Serie D Parleremo di tanti argomenti questa sera con i nostri ospiti Intanto saluto Alberto Buonasera Che è pronto qua per ricevere tutti i vostri messaggi Scatenatevi pure perché dobbiamo parlare sia di una pistoiese sul campo Che ahimè fatica ancora tanto in piena zona play out C'è stata un'altra sconfitta domenica, quella con il Forlì in casa E alle porte c'è una trasferta importantissima Lo potremmo chiamare uno scontro diretto, quello in casa del progresso E poi parleremo ovviamente anche di quello che non sta succedendo in realtà a livello societario Perché questi erano giorni caldi, dovevano esserci delle riunioni per ristabilire un po' le cariche all'interno della società Ma così non è stato e quindi tutto è ancora un po' in alto mare Di questo, di molto altro, parleremo anche di Aglianese che invece sta andando molto bene in campionato Con alle spalle una bella vittoria con Ile Corticella Allora ne parleremo qua in studio con i nostri ospiti Che saluto e ringrazio fin da adesso Alessandro Gambadori, allenatore della Lastrigiana Ma ovviamente lo ricordiamo tutti, uno è passato con la maglia arancione da giocatori Ciao Alessandro e grazie per essere qua Buonasera a tutti e grazie a voi per l'invito Ehi lei collega, Graziano Breschi, grazie anche a te Ciao, grazie a te E allora Alessandro, parto subito da te Non posso non chiederti insomma come vivi questo momento Anche se a distanza, ma so che lo segui della Pistoiese Vederla in Serie D, nelle zone basse della classifica Con tutto un futuro molto incerto anche a livello societario Ma vederla nelle zone basse sarebbe il meno Perché quello fa parte del calcio Vederla in una situazione un po' di imbarazzo, di indecisioni Poi io non seguo molto perché comunque Seguo attraverso magari social o giornali Quindi non so bene qual è la storia Però dispiacere, dispiacere perché una città come Pistoia Una società come Pistoia non merita questo Ma penso che non sono io l'unico a dirlo Quindi il mio augurio più grande è quello che possa risollevarsi il prima possibile E soprattutto vedere un futuro Quello che ad oggi forse nessuno di noi Voi i giornalisti, i stessi giocatori che vanno in campo alla domenica Forse non vedono un futuro e questa è la cosa più triste Ho fatto il calciatore per tanti anni E quindi so, fortunatamente ho vissuto pochi momenti Come quelli della Pistoiese Sono stato fortunato Però mi posso anche immedesimare in quello che è l'allenatore Perché ora è il mio ruolo In quello che è il giocatore Perché come ho detto lo sono stato E non è facile Non è facile, anzi credo che siano da apprezzare lo staff E i giocatori che vanno in campo nonostante questa situazione Giocatori che infatti Graziano non si tirano mai indietro Sono un grande impegno in campo C'è stato anche domenica Però purtroppo questa Pistoiese sul campo manifesta sempre tante tante difficoltà Partita dopo partita I giocatori sono quelli che hanno meno responsabilità Non è che sia venuti da sé qui a Pistoia I giocatori sono stati chiamati Chiaramente quando si fa il mercato in un mese e mezzo Partendo dal 2 di gennaio Non è che si possa prendere il fiorfiore Questo senza volere dare addosso appunto ai ragazzi Sono ragazzi che erano liberi Guarda caso erano liberi E ci sarà stato un motivo per cui erano liberi Tanti riduci da infortuni Tanti senza allenamento E quindi è venuta fuori un insieme Che avrebbe bisogno di tantissimo tempo per amalgamarsi E non c'è questo tempo Indubbiamente non c'è E allora ecco che questi sono i risultati I risultati di questa scelta scellerata Che è stata fatta dalla proprietà E non so se magari neanche la società Nelle vesti del garante Credeva di poter raggiungere una salvezza Che oggi sembra quasi una chimera Insomma sembra una cosa molto molto difficile da raggiungere Perché obiettivamente Al di là dell'impegno che ci mettono i ragazzi Si nota una differenza di valori Ma anche non solo con le grosse squadre Come può essere il Forlì Ma anche con le squadre del nostro rango C'è sempre una differenza Non fosse altro di esperienza Non fosse altro Ma anche su altri Ci sono anche altri fattori Che determinano la nostra Diciamo Non conformità Il nostro essere adeguati alla categoria Ecco Che vedo sempre tanta difficoltà In tanti ragazzi Obiettivamente Il fatto stesso Che siano stati impiegati Oltre 60 giocatori quest'anno La dice lunga Lo diceva appunto il mio direttore Che è uno statistico Si si è venuto qua anche Che diceva Che il massimo che si è raggiunto In tutti questi anni di storia È di 35 Quindi ecco Quando si pesca su 60 persone Vuol dire che non ci sono idee chiare Ecco Un po' inevitabile no Alessandro Che ci siano queste difficoltà Perché come hai detto anche prima Giocatori che sono arrivati Che non erano in condizioni Ovviamente fisiche adeguate Che si conoscevano Ma questo è stato un po' Una pistoiese in divenire Diciamo Dalla fine di dicembre in poi Tutti i giorni arrivava Un giocatore nuovo Un allenatore Che veniva comunque da una juniores E che si trova quindi A dirigere anche un gruppo Che cambia continuamente Quindi ovvio Per forza maggiore diciamo È normale I risultati Faticano ad arrivare Perché è come se fosse Una pistoiese Che si conosce Ma ha due mesi di tempo Poi Per fare il campionato Che sappiamo è una cosa diversa Qua parliamo poi Di un girone di ritorno E sappiamo che il girone di ritorno Sono tutta un'altra storia Anche rispetto a quelli d'andata Comunque le squadre si rinforzano Quindi le difficoltà Sono oggettive inevitabili Sono enormi le difficoltà Hai detto bene Soprattutto si parla di un girone di ritorno Giocatori che arrivano Giocatori che partono Soprattutto magari giocatori Che sono stati mesi fermi Quindi hanno l'opportunità Di rigiocare Anche perché magari i giocatori Quelli un po' più Come si dice Sul mercato validi Sicuramente per la situazione Che ha la pistoiese Non la prendono neanche in considerazione Con tutto il rispetto Di chi le ha presa Perché giustamente Ognuno deve fare il proprio lavoro Ma questo comporta Una serie di complicanze enormi Per lo stesso allenatore Perché se ogni giorno Gli arriva un giocatore nuovo E uno va via Preparare una strategia Lavorare a livello tecnico-tattico Penso sia di un'enorme difficoltà Ora andiamo anche verso i messaggi Però Graziano A proposito dei giocatori Alcuni li abbiamo persi Anche per la strada Se non sbaglio Di questi arrivati Sì Sì Sono persi Perché magari Arrivati Perché oggi Non è come era una volta Oggi c'è la possibilità Di andare a vedere Chi sono i giocatori Basta aprire il computer E si va a vedere E molti di questi ragazzi Poverini Erano Usostremine Magari Negli scorsi anni Avevano fatto due Tre Quattro presenze Ma Gente che poi Si è visto anche il motivo Per cui Perché Alla prima corsetta C'è uno strappo Uno stiramento Perché No Evidentemente Anche fisicamente Non erano idonei Ad affrontare Un campionato Tanto meno Partendo dal 2 di gennaio Quindi Uno arrivava Appunto Quell'altro andava via Ma Chi l'ha scelti Questi qui C'è un direttore sportivo No Quindi È la proprietà Che Ha fatto Tutto Cioè Come Dicevano una volta Vecchi Manda al treno Strappa biglietti E Scambia binari Ecco Quindi E questo è un po' Il sunto di tutto Quindi Il factotum È in grado Io Anche se sono tanti anni Che seguo Il calcio Non sarei in grado Di allestire una squadra Che possa affrontare Un campionato Ecco C'è un'improvvisazione Straordinaria Ritornando un po' Alla partita Anche quella contro Il Forlì Graziano Tu Cosa hai visto In particolare Di una pistoiese Che non riesce Proprio ad entrare Vedo che manca L'organizzazione Manca Tante cose Sottotutto Perché Anche Si parla di errori difensivi Che si continuano a fare Si parla di un attacco Che è molto sterile È un insieme Un insieme di cose Perché L'allenatore Ha sempre allenato Il livello giovanile Può essere bravo A contegli fare Ma allena Ha sempre allenato Il livello giovanile Quindi Non ha conoscenze Neanche della categoria Magari Sarebbe stato opportuno Prendere un uomo Di esperienza Della categoria Smaliziato Con un certo carattere E poi Vedere Anche domenica Ho visto tante Anomalie Sul Per esempio Sul gol del vantaggio Di loro Quando il giocatore Si fa buggerare Con facilità Sulla fascia Rimette al centro Quello Il difensore Sta a un metro Da un uomo scaltro Come Merlonghi Che non aspetta altro Che le mette la palla Subito dentro Il gol Del definitivo 2 a 1 Quando il ragazzino Giovane Che è un 2005 Va bene E sempre Su Merlonghi Che ha 35 anni Non riesce a prenderlo Per la maglia E buttarlo in terra Perché doveva fare Un fallo Prendeva la munizione Ma non avremmo Presso il gol Invece lo lascia andare Questo rimette Il pallone al centro E quindi Eccoti che poi Appunto L'ha avuto anche fortuna Perché la palla Ha carambolato Sul giocatore E ha scavalcato Il portiere Però Se lo metteva giù Chiaramente Si diceva È un fallo Antisportivo Ma chiaramente Per evitare Il fallo tattico Ma ha fatto Però questo Entra in gioco Un po' l'esperienza Ma non solo Ma sul gol È venuto Da una punizione Calciata dalla tre quarti In area avversaria Dove tutti I nostri alti Erano andati Per colpo di testa Guarda caso Viene un contropiede Come una squadra Si deve salvare In casa Dove prendere il contropiede Cioè È assurdo questo Ha preso Il gol In contropiede Può darsi Che Con più Da vedutezza Si poteva portare In fondo Il risultato Ecco E di fatto Questa sconfitta Ha molto complicato La strada Verso la salvezza Perché poi rivedremo Anche Fra pochissimo Andiamo in pubblicità Ma quando rientriamo Vediamo anche la classifica E gli scontri Che ci saranno Poi prossimamente Sul cammino Della Pistoiese E insomma Diventa tutto Molto Molto più complicato Alberto Ci sono dei messaggi Sì assolutamente Si sono già sbizzarriti Tifosi della Pistoiese Tanti fanno riferimento Chiaramente Al servizio Che c'è stato In questi giorni Da parte di Striscia La notizia Poi ne parleremo Esatto Quindi magari Quelle le lasciamo A più tardi Per adesso C'è Ed evidenziare Un tifoso Che ci scrive Ma c'è la forbice Si può stare tranquilli Il problema È non chiudere Quindi Insomma Si parla ancora Di forbice Chiaramente E il sorpasso Diretta Con questa seconda parte Di Giovedì Sport E allora Restiamo proprio Sulla cronaca Su quello che Insomma È successo Nelle ultime ore E che non è successo In realtà Perché Graziano Appunto Proprio in queste ore Dovevano esserci anche Delle riunioni Importanti in società Dove si dovevano Dire insomma Quali sarebbero state Le nuove cariche Perché alla fine Uno si domanda In mano a chi è Questa pistoiese Perché tutti sono Dimissionari E quindi Chi è Che ha In mano Le sorti Della pistoiese In realtà Non ci sono state Riunioni Comunque Perlomeno Non abbiamo Notizie Di niente Di fatto È tornato Un po' Alla ribalta La figura Di Maurizio De Simone Che ricordiamo È dimissionario Comunque si è dimesso Dalla carica Di garante Del Trust Orange Proprio perché Ci sono state Come diceva anche Alberto Che appunto Ce lo suggeriva Il messaggio Di un tifoso Da casa C'è stato un servizio Che è stato mandato Sulla rete nazionale Di Canale 5 Con striscia la notizia Che ha fatto visita Dalle parti dello stadio E proprio a Maurizio De Simone In realtà Mi sento di dire Molto sinceramente Anche senza vergogna Anche se qualcuno In queste ultime ore Ha detto che dobbiamo Vergognarci come giornalisti L'ultima cosa Che devo fare È quella di vergognarmi Di essere una giornalista Che segue la Pistoiese Perché le stesse domande Non è diciamo Trapelato niente di nuovo Per noi Perché quelle stesse domande Con le stesse risposte Le abbiamo già fatte Da dicembre Se non anche Da qualche mese prima Insomma Chi segue Chi vuole sapere La verità La verità La vede poi Attraverso I servizi Insomma Il lavoro Che facciamo Con meno aggressività Se fate Queste domande Con meno aggressività Di questo Non mi sembrava Nemmeno una grande aggressività Di questa intervista Spettacolo Però ecco Alla fine Cosa è scaturito Di nuovo Forse sì Che a noi Aveva detto Che avrebbe pagato A marzo E abbiamo appunto Le testimonianze Proprio attraverso Anche i nostri microfoni Mentre invece Lui in questa intervista Ha detto Che avrebbe pagato Insomma Tutti coloro Che hanno da avere Entro dicembre Del 2024 E quindi Sì ma questo vale Per quanto riguarda I fornitori I fornitori Perché i giocatori Se non li paga Entro il 31 maggio Non ci si riscrive Poi il prossimo anno Quello vuol dire questo Forse vorrà dire questo Cioè I fornitori Mi sta bene Perché I fornitori Si possono rivalere Anche Da un punto di vista Legale Si possono rivalere Perché chiaramente Il giocatore Magari A quanto ne so io Il giocatore dilettante Non si può neanche rivalere Perché sono rimborsi spese Però Il problema È che Se non paghi Entro il 31 maggio Che è il termine ultimo Poi Non puoi presentare Le liberatorie Per il prossimo anno Quindi Dovrà essere Trovata Si dovrà trovare Uno stratagemma Anche Per eventualmente Per poter proseguire Saranno secondo te Trovando uno stratagemma Ma lo so io Per originare Tante piccole cose Perché Ricordiamo appunto Maurizio De Simone È inibito Fino al 2026 Se non sbaglio Dalla federazione Giocatore Quindi C'ha altri due anni Ecco In che qualità Lui rappresenta E può rappresentare Si sa E' tutto avvolto Nel mistero Fino dal primo momento Forse preoccupa più Chi invece dovrebbe intervenire Non interviene Allora Ma Si sa Qui fino a quando Si presentava Questa nostra società C'è sempre stato Un alone Di mistero Va bene Perché Si è presentato Un signore tedesco Però Questi signori Erano Anche Che ci sono Attualmente Erano sempre Dietro le quinte Poi il signore tedesco È sparito E ha dato dimissioni Eccetera E è arrivata Questa nuova Proprietà Chiamiamola così Perché C'è un termine diverso Non ci può essere Un trust Ed è stato inventato Questo trust E Motivi lo sanno loro Per cui È stato fatto Questo trust E Però Come tu sai Anche te Perché Tu sei stata anche te Alle conferenze E poi Quando c'è stata la conferenza La parola Sempre presa Il garante In tutte le circostanze Anche lo scorso anno Quando era Dipendente OMAV In una Delle nostre Conferenze stampa Quando vide L'avvocato Gammieri Che era in conferenza Con noi Insieme a Rosati Lo vide Palesemente In difficoltà Apparve Improvvisamente Il garante Che Prese parola E disse Che Insomma Io non sono Lei dice Come In che Veste Sono in veste Di Dipendente OMAV Però In pratica Prese lui La parola Quindi ecco C'è tutto un alone Di mistero In questa situazione Che poi Sta sfociando In questa situazione Attuale Che sensazioni Hai Graziano Che possa intervenire Comunque anche Un'amministrazione pubblica Non lo so Io so Che c'è molto imbarazzo Da parte di tutti Mi sembra di capire Anche da parte D'amministrazione A intervenire Ecco perché Vedo che sono Molto riluttanti A prendere Anche a contattare Ecco quindi Non so Come Come possa Io Per natura Sono Un pochino Non ottimista Per Non dire pessimista E Quindi Vedo Tante nubi All'orizzonte Ecco Non vedo Spiragli Al momento attuale Che Oggi ci doveva essere Questo comunicato Ci avevano detto Mi sembra 15 giorni fa No A tutti noi Ci dissero Che il 29 Sarebbe stato Sì perché hanno giorni di riunione Sarebbe stato messo fuori Un comunicato Con i nuovi vertici Non c'è questo E fra l'altro Diciamolo pure Che Domande doveva esserci Anche la consueta Conferenza stampa Del prepartita Di progresso Pistoiese Anche questa è stata annullata E non parlerà Mister Ci è stata detto Io ho chiesto spiegazioni Ci ho detto che L'allenatore Aveva degli impegni Stranamente L'allenatore Deveva degli impegni C'ha quello Di allenare E di fare De conferenze stampa A meno che Dici È ammalato Mi sta bene Ha degli impegni Non so Qual è il motivo Per cui domani Non si presenta O gli è stato detto Di non presentarsi Non lo so Qual è il motivo Vado Vado così Vado così a intuito Andiamo con i messaggi Perché so che Su questo argomento Sì Si sono Diciamo così Abbastanza sbilanciati I tifosi Della Pistoiese Intanto La prima a scrivere Addirittura Nella giornata di ieri Ci chiede appunto Se abbiamo visto Il servizio La Chiara In cinque minuti Gli ha fatto Tutte le semplici domande Che nessuno Le aveva fatto In due anni Questo Non è vero Perché noi L'abbiamo sempre fatto Esattamente E poi mi è piaciuta Molto la squaglia Che ha saputo Mettere in difficoltà La faccia di Simone Insomma Buona serata a tutti Sempre Laura E poi Se era un'altra città De Simone Non c'era già più E poi invece Sempre un riferimento Al campo Si torna a parlare Amunco anche di campo È vero Ci sono nove partite Ma come è pensabile Che chi ha fatto Fino a ora 16 punti Ne possa fare Altrettanti Appunto In nove gare Insomma C'è sempre speranza In questa classifica Voglio restare un attimo Su questo argomento Chiedendo ad Alessandro A te È mai capitato Alessandro Di vivere una situazione Un po' del genere Nella tua carriera Di giocatore No Fortunatamente no L'ho detto prima Mai capitata Una situazione del genere Quindi Però Deve essere difficile Allora Guardiamo subito Anzi Facciamo un cambio Andiamo A vedere il top e flop Di Alberto Camboli Prova di forza Per i Baiano Boys Che sbancano anche il campo Della rivelazione Corticella Si dice che ormai La squadra Sia talmente forte Che Chuck Norris In confronto Era una cintura bianca Nero-verdi Mortal Kombat Aglianese Voto 8 5 gol in 23 presenze Di cui 4 Che hanno contribuito Ai 12 punti Dell'Aglianese È l'uomo in più Per qualità e leadership In questa fase di stagione Qualcuno addirittura Afferma di averlo visto In 4 stati diversi Nello stesso giorno L'onnipresente Marino Voto 8 La domenica arancione Per miracolo Pistoiese Voto 5 I numeri parlano chiaro 14 gol subiti Nelle ultime 7 partite Sono un dato inequivocabile La Pistoiese La Pistoiese balla dietro Che è una meraviglia Proprio come dimostra Il primo gol del Forlì Dopo Gemma Oggi La Pistoiese Servirebbe Millie Carlucci Ballando con Millie Carlucci Noi voglia di ballare con me Ballando con gli orange Difesa arancione Voto 4 Sei divertito Alberto Sì Io mi diverto sempre Devo dire Nel bene e nel male Queste cose Nel bene e nel male Sei d'accordo Allora Graziano Un po' con quello Che ha detto Alberto La difesa È un qualcosa Di Cioè Tutti le parti Non parliamo su difesa L'attacco È Praticamente Inesistente L'attacco è zero No La difesa È È stata messa insieme E poi La cosa La cosa Che Preoccupa di più È che anche stamattina Io ero all'allenamento Perché chiaramente I malati Seguono Anche L'allenamento Settimanali E stamattina Ho visto Che ha presentato Ha provato L'ennesima formazione Non riesce a trovare La quadra Proprio Perché anche lui Certo Non tu fa risultato E una volta Gioca a tre Una volta Gioca a quattro Una volta Gioca a cinque Una volta Cioè Non c'è più E un'alternazione Ma sono quelle Il materiale è quello Non è che il materiale Sia diverso Capito Tu cambi l'ordine Degli addendi Ma il risultato È lo stesso Ecco E quindi Ti lascia un po' D'amaro in bocca Che Finalmente hai trovato Il sistema di gioco Per cui No Basta un niente Basta una disattenzione E prendi il gol È stato un caso Lì a mezzolare È stato un caso Che è finito Zero a zero Anzi forse Da ultimo Si poteva trovare Anche il gollettino Ma è stato un caso Poi Si è sempre preso Sempre sul gol Perché c'è una fragilità Incredibile Proprio Incredibile E diventerà sicuramente fondamentale Come abbiamo detto La partita di domenica Perché è uno scontro diretto Guardiamo un attimo Anche la classifica Se dalla regia Ci aiutate Così La guardiamo insieme Perché appunto Pistogliese Andrà a giocare A progresso Una diretta concorrente Proprio per Per la salvezza La vediamo Pistogliese 28 Progresso 24 Borgo Sandonnino 16 mezzolara 16 certardo 14 Poi c'è anche il Sant'Angelo Che è 29 punti Quindi È vero che si parlava di forbice o non forbice Che ricordiamo è quella di 8 punti Però quella di domenica Cioè domenica ci vuole un risultato positivo Certo ci vuole un positivo Se vuoi continuare a sperare Ora faccio un passo indietro La rabbia che hai di questa classifica Cos'è? Perché se si vede la frenata che ha fatto in Ravenna E la non eccelsa qualità che c'è anche In alto Fra Carpi e Forlì Il San Marino addirittura Anche lì Sempre in zona Che non si è visto San Marino Cos'è Va bene E Per rabbia Perché si fosse E sta confermata Quella squadra smantellata Il 21 di dicembre Scorso Una squadra che poteva Tranquillamente Lottare E secondo me Anche vincere questo campionato Che rispetto a quello Dello scorso anno È un gradino sotto Come qualità Come qualità In Ravenna Ha fatto una frenata Incredibile E il Forlì Che aveva nove punti E lì Ha quattro punti Lo stesso Carpi Che sembrava fuori da giochi Quando ci stavano noi Sembrava fuori da giochi Il Carpi Ma il Ravenna Ha perso Ha perso in casa Per cui Era un campionato E quindi Ti fa rabbia Essere lì E dovere Lottare Per evitare Anche play out Perché anche play out Sono un rischio Grossissimo Perché Che se Se tu arrivi Sì In posizione Diciamo Di vantaggio Fai lo spareggio E in caso di pareggio In casa Rimani te Ma E neanche ha detto Si è visto come corrono Le squadre Come sono Assatanate Mangiano l'erba Perché Sono squadre Che lottano sempre E Bisogna abitare A tutti i costi Perché Diceva bene Quel signore Che Poco fa Diceva Alberto La categoria Va mantenuta A tutti i costi Perché andare In quell'inferno Della Della Eccellenza Ma io mi ricordo A baldaccio Bruni Ora senza Offesa Per il baldaccio Bruni Sono bravi Ma Lammari Cose Ma siamo matti Cioè Va evitata A tutti i costi Perché Ora Con tutto rispetto Per chi ci gioca Ma insomma Una squadra Una società Come la Pistovese Un blasone Un anno di serie A 19 anni di serie B Tanta serie C E quindi Evitiamola Tutti i costi Guardiamo Se ci si fa Ecco Se si fa il miracolo Ecco Fra l'altro Il progresso È uno degli sconti diretti Perché poi la Pistovese Avrà da affrontare Anche il Certaggio Il Borgo Sandonino A Sant'Angelo A Sant'Angelo Che hanno il capocannoniere Il Sant'Angelo È lì Ma c'è il capocannoniere Del Girone Non è una squadra Da sottovalgiare Deve andare a Fanfulla A Lodi Deve andare a Lodi Sono partite difficili Ci dobbiamo fermare Però Quando rientriamo Dopo la pubblicità Abbiamo mandato Questa settimana Alberto In giro per la città Anche a Vedere Un po' A sentire Un po' L'humor Dei cittadini Di Pistoia Dei Pistoiesi Proprio su questo momento Che sta vivendo Il calcio a Pistoia Pronti ancora in diretta Prontissimi Allora andiamo A vedere un po' Cosa ne pensano I Pistoiesi Di questa situazione Del calcio Della Pistoiese Ma questa Pistoiese Ma Non ci sono E per la Pistoiese Non è che Che sia Ma che situazione è Eh La situazione Mi sembra brutta A me No Lascio stare Bisognerebbe Pistoiese La Pistoiese No Perché No Ma no Io non sono A corrente Di queste Di queste cose Della Pistoiese Ora Se fosse Altra Altra roba politica Bisognerebbe Contannare Tutti Male In alto mare Come mai Cioè Come mai Perché mancano I padroni Quindi ci vogliono Davvero Veramente un peccato Per i Pistoiese E per la città Eh Peccato sì Perché io l'ho seguita Fino in Serie A Se chi lo so Secondo lei è arrivata La fine della società Della Pistoiese Il calcio a Pistoiese Non tornerà Speriamo di sì Speriamo Dio solo questo Sicuramente Pistoia merita Una squadra Che Porti la gente Allo stadio E qui Non c'è la volontà Di Seguire la città Se lo merita Una Pistoiese Tutta questa situazione Assolutamente Assolutamente Non ce lo possono meritare Dopo Al di là del passato Che ormai A partire Alla prehistoria Ma comunque sia Non ci si merita Veramente Di avere a che fare Con questi personaggi Dispiace Per la vecchia gestione Che ha dato tutto in mano Con forse Quella massima fiducia A questa persona A questa nuova holding Che poi si è rivelata Un totale fallimento Dispiace Perché la Pistoia Si è campata A cent'anni E purtroppo Ora sta finendo E' davvero la fine Per il calcio a Pistoia? Ma Questo lo si saprà Porsi alla fine Del campionato Però comunque Non sarà mai Molto La vedo molto Molto difficile Che ritorni a essere Quello che poteva essere In un passato Ormai remoto Ecco Io Siccome sono Uno che ho fatto Parte 40 anni fa Della maglia arancione Non posso Però i pistoiesi Non ce lo meritano No No Tu hai ragione C'è Assenteismo Non c'è fiducia Si ha sempre paura Di Di spendere Troppo Infatti Anche gli imprenditori Un po' Tutto il mondo Di Pistoia Non l'ha Non l'ha aiutata A questa pistoiese È quello Questa è la piega Grossa Della città Che non c'è mai Un aiuto Questa posizione È brutta No Ma la pistoiese Che insomma Ha avuto anche Dei buoni Giocatori In passato Hanno salito Le scale Quelle grosse Però ecco Io faccio un appello Di fare Un piccolo Sforzo Eh sì Diciamo Che è un po' Un'altura di scato Perché Ci vorrebbe Del calcio serio A pistola Più che altro Per portare Gioventù allo stadio E far vivere Un pochino L'emozione Che ci sono Nelle altre piazze C'è uno degli interessi È una scuola che venga E Si faccia vedere E davvero Ci paghi Ma Ti sei un abbonato Sì C'è chi entra C'è chi non entra Tu in questo momento Stai entrando No Sto entrando Non mi sto facendo vedere Allo stadio Perché non mi sento Riconosciuto Non mi sento riconosciuto Non Non sento rispettato Se ne deve andare Di Simone E le istituzioni Devono iniziare A mettersi in gioco Iniziare a farsi vedere Alessandro Tutt'altro clima Quello che hai vissuto tu A Pistoia Sì Ma Il mio dispiacere Più grande È che Oggi I bambini Diciamo Bambini Adolescenti Non vedono Già oggi È difficile No Portarli in un campo Da calcio Perché La passione È diversa Sono cambiate Tante cose E il calcio Secondo me Per i bambini Soprattutto Pistoia Che possono Sognare Di diventare Un calciatore Della Pistoiese Oppure Oppure Stadio Pieno Pieno di quei bambini Con le vostre maglie Addosso E l'attaccamento Anche alla squadra Della propria città Questo è stato distrutto Io ho vissuto due anni Tre totali alla Pistoiese Ma comunque Campionati diversi Ma il campionato Che abbiamo vinto Noi in D Mi ricordo Veramente È un ricordo Pazzesco Di bambini Che ti chiedevano L'autografi Però lì c'era Una società C'era un allenatore Molto attento Alla comunicazione All'andare Nelle scuole A rendere partecipi Famiglia Allo stadio C'era un progetto C'era un progetto C'era serietà C'era Giocatori Sicuramente forti C'era tutto un contorno Dove ti faceva vivere La Pistoiese Come è giusto che sia E questo Ad oggi purtroppo Non c'è Alberto Ci sono Sì Altri commenti Che stanno arrivando Sì Da parte dei tifosi Che scrivono Buonasera Mi confermate Il nostro girone Nell'Elettrice Non 4 Come Nei gironi A 20 squadre Confermiamo Confermiamo A questo tifoso Poi la forbice In questo caso C'è se arriviamo Sest'ultimi Se finisse così Serebbe play out Con il progresso Anche questo E' ovviamente vero Poi un riferimento A quello che diceva Prima Graziano Ovvero il prossimo anno Trasferta a Ponte Bugianese O peggio ancora Al Bastoggi Contro la Virtus Bottegone Perse le residue Speranze Quindi Ancora Insomma Che il tifoso Della Cristo Va Incontro A questa Diciamo così Sensazione Un po' Di tristezza E di abbandono Continua Anche a restare Molto diviso Sulle posizioni Chi è deciso Appunto Di entrare Allo stadio Chi invece Ancora manifesta Il proprio disappunto Nei confronti Ovviamente Non della squadra Ma della società E quindi resta Fuori dallo stadio E anche questo Alessandro Insomma È un sintomo Non bello Tutti i ricordi Immagino La curva nord Piena Mentre invece qua Si è fatto di tutto Per riaprirla E poi addirittura Adesso si è anche di chiusa Con la motivazione Appunto Che non ci sono Presenze Tali Da poterla È dura È dura Per la situazione Per i giocatori È dura Non avere Magari Neanche a supporto I propri tifosi È ancora più difficile Perché comunque Quei pochi Che ci sono Forse li sente Ancora di più Magari Se c'è un tifo Organizzato Senti il canto E non senti Quello che dice Hai sbagliato un passaggio Piuttosto che Vai avanti Sono situazioni Complicate Quello che mi viene Da dire È che Va detto bene Salvare la categoria Oggi come oggi Deve essere una priorità E Io penso Che i tifosi Debbano fare Un grande sforzo E cercare Di aiutare Questi ragazzi Al di là Mettere da parte Un po' Quello che È la situazione societaria Ma dare fino all'ultimo Quello che si può Per questi ragazzi Per salvare la categoria In effetti è vero Questa cosa è verissima Perché È inutile Ognuno la può pensare Come crede È vero Però ecco Anche il non andare Allo stadio Io credo che Poi si rivolga Contro di noi Contro anche la società Perché Sì Chiaramente Tutta la tifoseria Tutti Ma È ostile Verso questa Verso questa proprietà Però In campo ci vanno ragazzi Quindi In qualche modo Andare allo stadio E cercare E cercare di colmare Di colmare Anche Ora si fa un discorso Teorico Ma colmare anche Coltifo Le lacune Eventuali Di questi ragazzi Non sarebbe male Ecco Quindi Deve fare tutti Un pochino uno sforzo E cercare di D'aiutare I ragazzi Non la società Ecco Però ecco Rimanere A tutti i costi A tutti i costi Rimanere in categoria Questo Assolutamente Sarebbe un fallimento Incredibile Parliamo un po' Di quello che stai facendo Ora Alessandro Sei un allenatore Allenatore della Lastrigiana Calcio Campionato di eccellenza Allora come sta andando Questa avventura È una bella avventura Iniziata Ad agosto Quindi per me La prima volta In eccellenza Un campionato Tosto Difficile Un girone Il nostro Davvero Competitivo Con squadre Forti Siena Scandicci Terranova Traiana Sina Lunghese Sono squadre Organizzate Che hanno un passato Anche in Serie D Quindi Noi stiamo facendo Il nostro percorso Che è quello Che abbiamo creato Una squadra da zero Dove tanti giocatori Si sono trovati Come me All'esordio In eccellenza E tanti giovani Esordienti Per me è motivo di orgoglio Continuare questo percorso Sappiamo che è difficilissimo L'obiettivo è la salvezza Siamo lì che ce la lottiamo E sono molto contento E fiducioso E combattivo Soprattutto Come eri in campo Ti ricordiamo Graziano Ce lo ricordiamo Era la caratteristica principale Era quella Era l'agonismo La corsa Sì Anche tecnicamente Non ero proprio Così scalzo No No Diciamolo No 450 partite in C Anzi 480 Non l'avrei fatto Soprattutto No ti ricordiamo Soprattutto Per quelle caratteristiche Che predominavano A rispetto Che non eri proprio Scarsissimo Però ecco In campo Ti si notava Soprattutto Per Carattere Per quella Che è una bella cosa Una gran cosa Che in quelle categorie Appunto Dove tu hai militato Può a volte Anche fare un po' La differenza Serve molto Ma anche in Serie A Ci si ricorda I giocatori Che i mediani No I famosi mediani I picchiatore Ci si ricordano Il duro lavoro Insomma Del mediano Per te è stato un salto No Sì Perché venivi Da Casalguidi Da Casalguidi Dove abbiamo anche lì Fatto un percorso Dove abbiamo vinto Un campionato Di prima categoria Una salvezza In promozione E quest'anno In eccellenza Quindi È un percorso E c'è il tesserino Per UFAB E ti vedi allenatore Comunque Sono ambioso Mi piace Mi piace pensare Di diventare Un allenatore Poi Quello Sarà il campo A decidere Però ci metto Come diceva Come dicevi te Passione Impegno Carattere E Quindi Mi piace farlo Sono curioso Non mi fermo mai Studio continuamente Mi piace Ti è servito Avere alle spalle Una carriera da giocatore Per fare allenatore Al di là che sono due ruoli Ovviamente Due ruoli completamente diversi Ma chiaramente Avere un percorso Da giocatore Per tante dinamiche Sia nei periodi buoni Che nei periodi di difficoltà Aiuta Perché le hai già vissute E quindi Puoi tamponare O comunque attraverso L'esperienza passata Anche se è un ruolo diverso Però Le dinamiche Sono più o meno Le stesse Poi Ti ispiri a qualcuno In particolare Dei tuoi allenatori O Cerco di Ogni allenatore A me mi ha dato qualcosa E Dire che mi ispiro A qualcuno No Perché Secondo me Quelli a grandi livelli Sono Quasi inarrivabili Però Dentro di me Porto ogni allenatore Che ho avuto E cerco di Di mettere In atto Quello che sono stati I loro insegnamenti E soprattutto Poi Quello che è il mio credo Quello che è La mia Identità Di Di allenatore Anche perché sei molto giovane Ti trovi anche ad allenare Forse anche quasi I tuoi coetanei No Perché No Coetanei no Perché Però Ragazzi giovani Insomma Trentenni Sì sì No Però Mi trovo bene Un ruolo che Mi piace farlo Da matti Sia sul campo Ma anche Soprattutto fuori Nella gestione Perché oggi In queste categorie È fondamentale Non solo La parte tecnico-tattica Ma soprattutto La parte gestionale No Perché Sono giocatori Che comunque Non tutti Lo fanno come Primo lavoro Quindi c'è gente Che lavora Arriva al campo La sera Noi ne facciamo tre Ma quasi tutte le squadre Di eccellenza Del nostro giuratore Ne fanno quattro Quindi E il Siena Ne farà anche cinque Sì Il Siena Professionismo Quindi È un bel percorso Il mio Facciamo un grande Bocca al lupo Ovviamente Per questa tua avventura E poi magari Ci rivediamo qui A parlare di Pistoiese Speriamo in un'altra In un'altra situazione Me lo auguro tanto Certo La scomparsa del calcio Pistoia sarebbe Una tragedia Sarebbe una tragedia Non ci vogliamo neanche pensare Vogliamo pensare Che invece In questi momenti Qualcuno Possa magari avere Veramente a cuore Le sorti Qualcuno è successo In Toscana Successe un po' Ripartendo come ripartendo Però Diciamo che non si debba Ecco Pensa a Biareggio Che in pratica Sta rinascendo ora Biareggio è stato Eppure Biareggio è stato A grossi livelli Nel passato Livelli di Seresci Per lo meno Poi è sparito Pensa a Massese Che da trent'anni Ormai Lo stesso Siena Comunque che ha Il Siena Che prima Era sotto l'alone Del Monte De Paschi Poi da quando Il Monte Paschi Se è sparito Ha sempre sofferto Ha sempre sofferto Fino a questa Ultima Che non può giocare Neanche nel proprio campo Il Siena No Non può giocare Perché il vecchio proprietario Non ha rilasciato Gira un po' Fra Non ha rilasciato Le chiavi al comune Quindi c'è l'erba alta A rastrello Quindi Altro che la crisi Del calcio toscano La crisi del calcio toscano Tante squadre Guarda Il Livorno Che è in quarta serie Guarda Il Grosseto Che è in quarta serie C'è tante Se vai a vedere Trent'anni fa Erano tutte Ad alto livello In Toscana C'è proprio Una moria Di calcio Legata Forse anche Alla situazione economica Nazionale Sicuramente Perché Abbiamo Voglio leggerti Il primo messaggio Per forza Perché Per Alessandra Rivolta Alessandra Da parte di un tifoso Della Pistoiese Che scrive Un saluto Una domanda a Gambadori Qual è il momento E un gol Che ricordi Più volentieri Della stagione Passata a Pistoia E qui ci sono Due suggerimenti Lo spareggio Con la San Giovannese Un ritorno Un ritorno in Cicco Grazie a Graziano Grazie a Graziano Grazie a Graziano Breschi Grazie a voi Grazie anche a te Alberto Noi ricordiamo Che domenica In diretta Su TVL Ci sarà La partita Progresso Pistoiesi A partire dalle 14.30 Buonanotte a tutti Grazie per essere stati con noi